Un traguardo di civiltà è un primo passo nella strategia dell'amministrazione comunale dedicata al verde e all'ambiente. Lo ha definito così l'assessore al decoro Barbara Brunori il nuovo regolamento del verde approvato in consiglio comunale che prevede un insieme di norme sulla pianificazione e sulla gestione di questo settore. Nello specifico sono stati recepiti dettagli del regolamento regionale redatto nel febbraio 2005 attualizzandolo con alcune prescrizioni per soddisfare le nuove esigenze. Per cui lo abbiamo calato sul territorio e lo abbiamo dotato di ulteriori approfondimenti. Questo regolamento è anche il frutto di un percorso condiviso negli anni, un percorso che ha visto delle osservazioni da parte delle associazioni ambientaliste che sono state recepite e che è ripartito tramite un tavolo di lavoro con il tecnico del verde pubblico del comune di Fano, la dottoressa Gabriella Malanga che ringrazio davvero per il lavoro svolto, con il professor Fabio Salvitano nonché ecologo forestale e anche docente dell'Università di Firenze che ci ha accompagnato in questo viaggio ed attualizzato il regolamento calandolo proprio su quello che è proprio il territorio e anche il nuovo tempo in cui lo abbiamo approvato quanto agli ordini professionali che anche loro sono intervenuti. Un altro punto fondamentale per cui mi sento di sottolineare per aver approvato questo regolamento è quello proprio che garantirà la neutralità carbonica per il 2050 che non è altro che la certificazione dove si dichiara che la città non emette più di quello che si consuma. Si tamponeranno quindi delle emissioni con delle scelte conservative del verde. Il regolamento è suddiviso in tre parti, ha poi spiegato l'assessore. La prima va ad ottimizzare la gestione delle potature, la seconda riguarda le norme che facilitano i processi di trasformazione del verde perché regolano l'uso del territorio, infine la terza parte che disciplina l'utilizzo dei fitofarmaci, prodotti che devono rispettare criteri e parametri imposti dal Ministero dell'Ambiente. Inoltre si investe tantissimo su quello che è la formazione del personale perché sappiamo bene che ad intervenire devono essere delle persone qualificate proprio per non andare a danneggiare quelli che sono i benefici di tutto l'apparato del verde. Il regolamento è un regolamento di indirizzo, ricordiamo, ma è anche prescrittivo per tutto quello che riguarda la parte delle sanzioni e dei divieti. È un regolamento cogente per quanto riguarda gli interventi dei lavori pubblici, quindi dobbiamo necessariamente osservarlo e nello stesso tempo è un passaggio culturale importante che ci doterà presto anche di un censimento del verde che accompagnato a questo ci daranno la possibilità davvero di ottimizzare tutti quelli che sono i costi benefici del verde all'interno del nostro territorio. Significa fare delle scelte giuste e questo sicuramente non deve essere solo il futuro ma deve essere un presente.